Sì, dai, detta che scrivo. Va bene, aspetta in linea, la scorsa settimana ho preso coraggio a due mani, mi sono fatto la prostata. Sì? Sì, veloce. Senti, quanti hanno dato per la panda? Aspetta in linea. Scusi, si è fatto la prostata e non hai dato la panda in pelota. Ah, perché si poteva dare in pelota? Sì, che non mi chiede, che ti scacassare, qualche cosa non mi chiede, che non mi chiede.